Ciao, sono Gabriele Medeot e ti do il benvenuto a questa nuova lezione di teoria musicale. L'argomento di oggi è l'unisono. Un intervallo, un argomento veramente speciale perché l'unisono spesso volentieri genera discussioni anche così fra amici, musicisti e musicanti in quanto qualcuno sostiene che non serve, qualcuno si dice beh è la stessa nota. Allora vediamo un po' perché è davvero delicato come argomento ed è estremamente importante. È un intervallo, quindi sicuramente l'unisono fa parte della categoria degli intervalli, su questo non c'è nessun dubbio ed è come tutti gli intervalli quindi formato da due suoni. L'intervallo è la distanza che intercorre fra un suono e un altro suono. L'intervallo può essere ascendente o discendente, può essere armonico o melodico quando questi due suoni sono eseguiti contemporaneamente o uno in successione all'altro, può essere semplice o composto quando è all'interno dell'ottava o superiore alla dimensione dell'ottava e soprattutto può essere inserito all'interno della grande categoria maggiori o giusti. Quindi può essere poi declinato e modificato a seconda di se è maggiore o giusto, può essere rimpicciolito e diventare minore o diminuito o minore e diminuito addirittura oppure se aumentato può diventare eccedente. Detto ciò quindi questo cappello introduttivo che vale per tutti gli intervalli, questo cappello introduttivo vale anche per l'intervallo dell'unisono. Ma che cos'è l'unisono? L'unisono in buona sostanza è un intervallo formato da due suoni che producono la stessa frequenza, cioè producono lo stesso suono. Come? Due suoni che producono lo stesso suono, esatto. Potrebbe sembrare anomalo, potrebbe sembrare raro, ma in realtà è una cosa comunissima. Quando noi cantiamo con i nostri amici e cantiamo quindi la stessa melodia, anche se non siamo proprio super intonati, ma non è quello il senso del discorso, cioè cantiamo le stesse cose e stiamo cantando all'unisono. Se io e il mio amico musicista stiamo cantando la strofa di una canzone che ci piace, la cantiamo uguale, stiamo cantando all'unisono. Quello che si percepisce, se siamo perfetti, cosa che non accadrà mai, sarà una unica melodia, ma in realtà sarà prodotta da due voci. Quando le due voci sono molto simili, quindi anche per il timbro, per l'altezza, per la frequenza, per la grana, diciamo che percepire l'effetto a un orecchio disattento, un po' o non troppo allenato, potrebbe risultare leggermente più difficile, ma pensiamo che a cantare possa essere un uomo o una donna, o che a suonare possano essere due strumenti molto diversi fra di loro, una tromba o un pianoforte, che entrambi producono il suono DO o il suono RE. Li sentiamo subito che sono due timbri, due suoni diversi e sentiamo subito che però il suono è uno, è unico. Ecco, c'è un allineamento, un allineamento proprio perfetto di questi due suoni, ecco che quello è un unisono. Ora, l'unisono può essere definito giusto e quindi eccedente o diminuito, cioè l'unisono fa parte di quella categoria di intervalli che allo stato naturale si definiscono giusti. Ed è giusto quando? Quando i due suoni coincidono perfettamente. Ora, io ho utilizzato, utilizzo la nota DO come punto di riferimento, DO in pentagramma, le due voci devono essere due voci che producono entrambe lo stesso suono, quindi entrambe devono produrre il suono DO. Quando l'unisono è composto da due suoni coincidenti, ecco che si definisce giusto, quindi DO, DO è il mio intervallo di unisono giusto. Di per sé, io ora applico la regola, applico la regola per creare, per trasformare un intervallo giusto in eccedente. Qual è la regola? Quella che prevede di usare un'alterazione, cioè un cromatismo, un diesis, nella versione giusta su uno dei due, sul secondo, sulla nota di arrivo, quindi spostarlo verso l'alto aumentare. Di conseguenza il DO secondo diventa DO DO diesis, cioè DO DO diesis. Due suoni, cioè magari due suoni che non sono perfettamente intonati, due voci che non sono perfettamente intonate, o per volontà, la volontà di creare una dissonanza, cioè un suono un po' stridente, no? Un DO e un DO diesis. Ecco che in quel caso l'unisono diventa eccedente, quindi DO, DO diesis e un unisono eccedente. Qualcuno potrebbe dire sì, ma equivale a dire RE bemolle. Certo, equivale a dire RE bemolle, ma se io dico DO RE bemolle, in realtà non sto pronunciando un intervallo di unisono, ma DO RE è una seconda. E quindi DO RE bemolle è una seconda di un qualche tipo. Noi impareremo, o forse lo sai già, che le seconde fanno parte dell'insieme degli intervalli maggiori, e quindi la seconda DO RE bemolle, formata da un semitono diatonico, è una seconda minore. Abbiamo fatto una piccolissima incursione anche in un altro intervallo, che però ci serve per capire la differenza che c'è fra DO DO diesis e DO RE bemolle. Quindi DO DO diesis è un intervallo unisono eccedente. E poi quindi esiste anche l'unisono diminuito, perché se esiste l'eccedente esiste anche il diminuito. L'unisono diminuito parto dall'unisono stesso, quindi da DO DO, e la mia seconda nota deve essere quindi abbassata, perché la regola prevede che se nell'eccedente aumento con un cromatismo, con un diesis, nel diminuito rimpicciolisco con un bemolle. Ed ecco che il DO secondo, quando scendo, deve diventare DO bemolle. Lo vado a scrivere DO DO bemolle. Anche qui vale lo stesso ragionamento di prima. DO DO bemolle, da un punto di vista enarmonico, coincide a SI. Cioè quindi quello che io sento, quello che la mia orecchia percepisce, è un intervallo DO SI, cioè un intervallo anche qui di seconda minore, come quella di prima. Ma da un punto di vista grafico, quello che vado a scrivere è DO DO bemolle. Le sostituzioni sono un argomento che mi permette di interpretare questi suoni. La sostituzione armonica è proprio quella che fa sì che io possa decidere di scrivere e interpretare questo DO bemolle come SI, piuttosto che questo DO diesis come RE bemolle. Questo mi serve da un punto di vista pratico quando vado a scrivere, a comporre, e soprattutto poi vado a dare le mie parti anche ad altri musicisti. Quindi l'unisono è davvero un intervallo particolare ed è un intervallo che rientra, come dicevamo prima, nella categoria degli intervalli giusti. Quindi l'intervallo essendo giusto può essere anche eccedente o diminuito. Eccedente un po' più grande, diminuito un po' più piccolo. DO DO, due suoni che producono lo stesso suono, la stessa frequenza, la stessa posizione sulla tastiera del mio strumento, o lo stesso suono da un punto di vista vocale, quindi allineamento perfetto di due voci, unisono. Allineamento non perfetto, quindi crescente, ecco che diventa un allineamento eccedente. Uno fa DO e uno fa DO diesis, una dissonanza. Allineamento invece che tende a diminuire, a essere calante, questa sarebbe la definizione più corretta in musica, diminuito. Quindi DO, DO bemolle. Allora abbiamo DO DO, abbiamo DO DO diesis, abbiamo DO DO bemolle. L'unisono giusto, l'unisono eccedente o l'unisono diminuito. Bene, una lezione un po' particolare davvero quella sull'unisono, però se hai dei dubbi, dei commenti, lasciali pure qui sotto, mi fa molto piacere. Risponderò davvero volentieri. Se ti piace, lascia un like, magari iscriviti al canale. Grazie per aver guardato questo particolare video e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao! Ciao!